e bentornati in questo nuovo video pare cosa vuol dire? ma siamo sfocate? no oggi andremo ad boxare questa qui questa l'ha ricevuta simona a natale è la barbie extra number 15 15 15 c'è scritto 15 accessori qua ma c'è anche lei anche numero 15 molto 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 bella la confezione confezione è questo davanti trasparente barbie extra il suo artwork direi che è molto molto bello l'art work guardate ragazzi che bella qua c'era il diamante che non ci sta più vedete in questo incavo qua purtroppo non lo so non è andato a finire di lato barbie extra con il suo cucciolo questo con il suo cucciolo questo è il diamante che doveva essere davanti ma non ci sta dall'altro lato c'è raffigurato lei con la scritta barbie extra su trasparente sotto trasparente dietro dietro c'è il suo ancora ma cosa stai facendo il suo artwork e qua c'è tutte le altre della della serie e qua c'è la sedia la serie e quattro delle persone che sono dentro questi vali sì io chiave se vabbè comunque qua spiegazioni varie che noi non ce ne fotte e qua i 15 accessori si abbassa lo schermino eccoci qua allora io partirei dagli accessori dai così dentro vabbè non è quello allora a questa cosa cosa sia ma sarà un cellulare non lo so ma buco qua sono un po storti oggi vedo boe così non lo so sinceramente si appoggia e si richiude una forma di non lo so poi occhiali viola con il tipo diamantini sotto che poi non sono diamantini brillantini diciamo no ok a parte che non ti vedi la pizza che è una borsa bellezza diciamo ma vabbè pizza col salame con i cuorecciogli e il suo cagnolino che anche il cagnolino ha gli occhiali agli occhi così è un dalmata gli occhiali c'è un inserto un buchino nelle orecchie c'è il fiocchetto che si può rimuovere ma rimane il buco quindi anche no questo è il suo cagnolino oh l'hanno fatto non seduto non sdraiato non che cammina oh c'è un tessone che è gigante ora passiamo alla barbie vi avvicino sono molto veloce oggi che è successo ve la faccio prima vedere a voi ok allora gli occhi sono castani ha un eyeliner fine che finisce dietro ombretto viola ha il rossetto viola però viola pastello pastello le sopracciglia sono molto ben rifinite ma molto belle anche grandi direi con i classici tre pelettini all'inizio della sopracciglia e sopra l'ombretto c'è una riga di un viola un'altra tipologia di viola vedete vi avvicino ecco lo vedete qua questo è il suo viso ve la faccio vedere da vicino molto 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 bella guardate anche gli occhi è stampata bene direi ma sì ma l'unica cosa che non mi piace è rossetto sembra che ha l'impressione che è sporca guardate da lontano sinceramente il rossetto non mi piace non lo so vado avanti vado avanti allora i suoi capelli sono nero corvino e lunghissimi ragazzi arrivano quasi fin i piedi qualche ciocchettina quella e poi più lunga mamma mia santissima e anche la fibra è molto bella niente da dire ha delle mollettine ai capelli sui capelli qua perché come pettinatura davanti qua due ciocchi che viene legato dietro con un elastico e qua hanno messo ai lati ok due tu controlla però se le affa niente le mollettine con le stelline molto carine molto carine gli orecchini sono color argento una goccia squadrata sembra molto belli molto grandi molto belli mi piacciono questi mi piacciono l'outfit passiamo all'outfit è color argento adesso riusciamo a capire come si toglie c'è un bottoncino qua qua c'è il bottone qua si sfila il bottoncino è qua oh non ho messo il bottoncino che carini è color argento ve lo sfilo così voi lo potete vedere bene e ha il pello tutto argento eccolo qua l'interno così e tutto il pelo attorno viola direi che però è molto bello cioè mi piace sì il tessuto forse i tessuti di questi sono così è molto cartoso cioè però mi piace raga mi piace e questo è lo stile che la rabanica è giù comunque molto molto bello mi piace oh la 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 vediamo eccola qua indossa due collane due collane una semplice e un'altra così con tre palline con all'interno il diamante diciamo diamante viola molto molto bello questa è una maglietta stavo controllando se era un body viola collo alto a lupetto manica lunga viola chiaro lo sfondo e i cuori di viola più scuro molto bella mi piace molto molto bella sì questa sì ok mi piace mi piace mi piace mi piace dietro solito velcro la con il tessuto leggero 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 fello però mi piace mi piace argento con questo vola davanti molto bello che finisce qua dietro mezza gonna così finisce qua, bello piace però gli stivali rivisti e rivisti color viola con le fibbie color argento che richiama il vestito molto molto bella allora i suoi movimenti testa spalla gomite gomito si entrambi eh mani le anche ginocchia ginocchia e i piedi non penso no lei è una una no non sembrava un attorno vado indietro ok ci siamo la Barbie ve l'ho fatta vedere andiamo a vedere subito gli occhiali che danno in dotazione la sua borsetta che c'entra la pizza che c'entra la pizza non lo so ma che ne voglio ditemelo voi nei commenti se avete capito voi ma è tutto è tutto stato se avete capito voi cosa serve quella roba là perché io non l'ho capito allora bella sicuramente bella solo che sul suo corpicino non rende forse ha la testa un po' grossa rispetto al corpo a me guarda dentro la scatola mi sembrava un attorno non lo so ragazzi non lo so non lo so non lo so il corpo vabbè è sempre meglio di quelle statiche ok io lo voglio sul mente tutto bello tranne il rossetto che ho già detto perché sembra che si è spacciata il pongo sulle labbra chi sa che cosa tu è lei è non è neko sembra la bmr asiatica non lo so no allora le luci così non lo so comunque ve lo diremo se vedrete il combo come ho detto anche nel precedente video lo faremo vedere nel canale con che cosa comberemo perché lei sicuramente ha detto simona che la vuole sul med quindi lo vedrete sul canale non è bella solo che c'è questa cosa qua del labbro che sembra che ci ha spacciato il pongo bene detto questo ah no tu scusami non parli mai e poi comunque che fastidio cioè mezza nesta molto 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 bella e le consiglio scusate se sono vestita così ma fa caldo consiglio l'acquisto e anche se piove ma parli dove dove sei nell'oltrecantina vieni nel video spero di cambiare il corpo molto presto ma non so che corpo è necco non è perché è rosato non è bianco e niente una extra con i capelli neri e non colorati bella da lavare sicuramente vabbè sì perché è tutto ciao ragazzi mi raccomando like iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere la notifica nei nostri video ciao ragazzi ciao